Se siete dei veri cinefili, ma anche se non lo siete, suppongo avrete sentito parlare almeno una volta del rinomato Festival di Cannes, un festival cinematografico della durata di circa due settimane in cui autori di diverse nazionalità competono per conquistare la famosa Palma d'Oro. E grazie al nostro efficientissimo sistema di distribuzione abbiamo l'opportunità di recuperare questi film praticamente a un anno di distanza dallo svolgimento del festival. Ok va bene, non sempre così, per esempio l'anno scorso abbiamo avuto l'opportunità di vedere per tempo il racconto dei racconti di Matteo Garrone, il film che quest'anno ha vinto tanti premi ai Davidi Donatello, ma è anche vero che ci sono dei casi in cui i film partecipanti al festival giungono nelle nostre sale veramente molto tardi, ed è proprio il caso della foresta dei sogni. Una pellicola appena uscita nelle sale italiane e che ha partecipato al festival di Cannes l'anno scorso in mezzo a tanti altri titoli importanti, tra i quali ricordiamovi Lobster, Youth di Sorrentino, Carol, ma era davvero in grado di competere con tutti questi titoli importanti? Beh ma che cosa dici? Se ha partecipato al festival di Cannes vorrei dire che è un bel film, ma per forza se ha partecipato a un festival così prestigioso deve essere necessariamente un bel film. Eh un secondo, eh sì ho capito, ho capito, lo so. Eppure sono stato stupito dalla reazione del pubblico di Cannes dopo aver visionato il film, comunque andiamo per ordine. La foresta dei sogni narra il dramma di un uomo che deciso a compiere suicidio si reca presso i piedi del monte Fuji dove si trova una foresta nota appunto come foresta dei suicidi, proprio perché le persone si recano lì per riflettere sulla vita e la morte. Noi spettatori accompagneremo il protagonista in un percorso metaforico che lo condurrà a riconsiderare la propria vita e a sperare ancora una volta nel domani. E guardate un po' chi interpreta il protagonista, il buon Matthew McGonaghy. Matthew sembra che stia costruendo la propria carriera su dei ruoli prevalentemente drammatici ultimamente, non vi pare? L'abbiamo visto interpretare Roe Woodruff in Dallas Buyers Club, il detective Rustin Cole in True Detective, il pilota della NASA Cooper in Interstellar e adesso, giustamente, un aspirante suicida. Ah, le premesse di questo film sprizzano vita da tutti i pori. A parte gli scherzi, a detta di Matthew McGonaghy stesso, in realtà questo film vuole essere un invito allo spettatore a riflettere sulle nostre vite, sulle nostre relazioni, facendosi portatore di un messaggio che vuole essere preso che positivo. Anche se per il momento, da quanto ho letto, l'unica riflessione che questo film sembra stimolare nell'ospettatore è scegliere tra due opzioni. Fischiare il film o lasciare direttamente la sala a metà proiezione. Va bene, va bene, come solito sto esagerando, ma se non sbaglio ho letto davvero che dei fischi sono riecheggiati in sala durante la proiezione. La foresta dei sogni, quindi, sembra un po' configurarsi in base sempre a quel che ho letto, come un film che nonostante abbia partecipato a un festival tanto prestigioso, non è uscita né come vincitrice né tanto meno come film di qualità o meglio come film effettivamente in grado di competere all'interno di una cerimonia simile. Certo, noi dobbiamo ancora vedere il film, di conseguenza io magari potrei andare a vedere il film in questi giorni e rendermi conto che in realtà è stato criticato eccessivamente. Comunque ho voluto semplicemente farvi presente tutte queste critiche rivolte al film in base agli articoli e alle recensioni che ho letto perché ne volevo approfittare per proporvi una micro riflessione riguardante un piccolo argomento. La gelida accoglienza ricevuta dalla foresta dei sogni al festival dovrebbe insegnarci ancora una volta che la partecipazione a cerimoni di questo tipo, e in mezzo ci infilo anche ovviamente gli Oscar che sono l'esempio più classico da quando si tratta di questo argomento, non rappresenta assolutamente una garanzia sulla qualità del film. Oh, oh, guarda, oh, guarda, ho trovato un film figo, dovrebbe essere figo, oh, cagami, guarda, sembra figo vero, eh? Eh, quindi perché dovrebbe essere bello? Come perché? Non vedi che Variety ha scritto il film dell'anno e poi c'è il vincitore all'Oscar, il candidato all'Oscar, l'Oscar, Oscar, Oscar. È un film che ha partecipato agli Oscar, quindi deve essere per forza bello, lo guardiamo, no? Cioè, sarà fighissimo. Cazzo hai ragione. Oh, guardiamolo. Molto spesso sento questo genere di discorsi tra le persone e quindi se la foresta dei sogni è davvero questo film mediocre che è stato fischiato al festival di Cannes, allora sarà un ulteriore esempio di come i nomi di queste grandi cerimonie vengono inseriti all'interno delle locandine dei film semplicemente per trarci in inganno, per farci credere di essere davanti a un grande film quando in realtà così grande non è. Ma la cosa più importante è che andiate a vedere questo film perché potete leggere tutti gli articoli e le recensioni che volete, potete leggere che è stato ultracriticato, ma finché non vi fate una vostra opinione, finché non esprimete un vostro giudizio, finché non vedete il film con i vostri occhi, accompagnare il coro di critiche significherebbe semplicemente seguire la massa come delle pecore. Quindi prima di sputare sentenze andiamo a vedere questo film, visto che abbiamo l'opportunità di visionare una pellicola tanto controversa. Personalmente mi auguro davvero che tutte queste critiche siano esagerate perché comunque alla regia troviamo Gus Van Sant che con Will Hunting, Milk, Elephant ha sempre dato un'ottima prova delle sue doti registiche. E al Festival di Cannes è distinto più volte, quindi mi dispiacerebbe vederlo inciampare con questo film. Bene ragazzi, quindi andate a vedere La Foresta dei Sogni per farmi sapere che cosa ne pensate. Io ci andrò sicuramente perché sono molto curioso di scoprire come sarà effettivamente questo film. Vi ricordo come solito di passare dal mio canale personale, Lorenzo Signore, in cui troverete settimanalmente recensioni di film passati in uscita. Detto questo io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo appuntamento.